Ciao, sono Maria Grazia Buono, ho 22 anni e sono di Napoli. Sono una ragazza solare, molto determinata e sempre pronta ad aiutare gli altri. Ho iniziato il percorso della recitazione a 13 anni come una sfida per superare ciò che era per me il mio più grande ostacolo, ossia quello della timidezza, e ho frequentato il laboratorio di formazione teatrale I Dieci Mundi di Nando Pagonecci e Tisommella a Pozzuoli. Prima di intraprendere il percorso della recitazione ho praticato differenti sport, tra cui il nuoto, la danza hip hop e la vela, che era il mio preferito in assoluto. So parlare l'inglese e lo spagnolo e anche un pochino di francese, siccome ho frequentato il liceo linguistico, dal quale mi sono diplomata nel 2017, e attualmente frequento l'Università di Lingue e Culture Moderne Europee presso la Federico II di Napoli. Come esperienze recitative maggiormente ho esperienze teatrali e negli ultimi anni ho avuto anche qualche esperienza televisiva, prendendo parte a fiction, quali I Bastardi di Pizzo Falcone e il Commissario Ricciardi. Grazie. Grazie. Grazie.